Vittorio Sgarbi ha il Motorbike Expo, una bellezza particolare quella delle moto, tecnologica ma anche creativa. La bellezza delle motociclette è molto femminile perché sono in equilibrio quindi prevedono una certa instabilità, una sfilata di motociclette è come una sfilata di Miss. Esagerato parlare di opere d'arte facendo riferimento ad alcune motociclette? Di fatto possono essere chiamate opere d'arte perché sono opera della mano dell'uomo. Recentemente hai insistito sul concetto di bellezza, recuperare la bellezza come valore anche economico. Esaltare la bellezza è quello che io chiamo il rinascimento italiano che è la creatività dell'Italia e che in ogni settore ha mostrato di mettere nella creazione fantasia, bellezza, intelligenza è determinante per il loro successo quindi anche per ragioni economiche e di sviluppo. Nelle opere italiane l'elemento estetico è parte di una tradizione o addirittura di una natura, della inclinazione verso l'arte che è proprio negli italiani.